Proseguiamo l'obiettivo che c'erano prefissati in precedenza, quello di poter fare i più punti possibile, passando anche attraverso il rientro di alcuni giocatori, la crescita dei giovani. Cercheremo domani di fare nostra la partita, ovviamente contro una squadra che ha fatto molto bene domenica che ha schierato tanti giocatori di qualità davanti, non sarà una partita facile ma noi come sempre proveremo a portare a casa i tre punti, una delle tante in cui abbiamo dominato per lunghi tratti e poi negli ultimi 10 o 20 minuti, quarto d'ora abbiamo un pochino perso le distanze, questo c'è un po' contraddistinto quest'anno in maniera negativa, tante altre cose positive, questo è stato un po' l'aspetto negativo che ha determinato magari la possibilità di avere in questo momento, non dico 10 punti in più, ma tre li avremmo avuti sicuro, però gli altri in più ci sarebbero stati benissimo per quelle che sono state le prestazioni. E poi mi dispiace anche aver perso, purtroppo per un bruttissimo infortunio e lamento, è anche questo che determina un po' la nostra annata, la rottura del legamento crociato di Cristian Dell'Orco che mi auguro che possa rientrare il primo possibile, era un giocatore veramente in grande crescita, che aveva in questo momento acquisito la conoscenza, tanti aspetti positivi, sia fisici che mentali, per poter far bene in questa squadra, peccato che ci dovremmo privare per lungo tempo. Ma ha un allenatore che prima di tutto è un mio carissimo amico, che sono cresciuto con lui e devo dire che nonostante le difficoltà avute quest'anno, così nel senso l'hanno messo un po' sempre in discussione, ha dimostrato di essere un ottimo allenatore, al di là che è poi un'ottima persona, però ritengo che ha dei giocatori come abbiamo avuto, come Farias, Farias è cresciuto tantissimo e anche l'esperienza che ha avuto qua l'ha fatto crescere in un momento difficilissimo, poi il Sassuolo è stato una delle prime squadre che ha creduto lui per portarlo in Serie A e ritengo che sia un giocatore Diego di ottimo livello, però ha dei giocatori davanti Stefano molto interessanti, anche lo stesso Boriello che sembravano tutti un giocatore così, sulla via del tramonto ha fatto tanti gol ma si muove ancora con grande qualità al servizio della squadra, ha dei giocatori davanti molto interessanti, magari la pecca che può aver avuto come squadra è quella di aver preso tanti gol. Certi giocatori quando arrivano da categorie inferiori, magari da ambienti in cui si sentono già giocatori importanti, quello che è successo io e me lo affoggia, però ricordiamoci che veniva da due categorie inferiori, dalla Serie C. Poi quando tutti parlano del Sassuolo e della Champions League, la crescita di questa squadra passa anche attraverso quello che è successo domenica e per me motivo di grande soddisfazione per me e la società che abbiamo fatto determinate scelte, vedere certi giocatori come Pietro che sta crescendo continuamente, ma anche come conoscenza, come modo di muoversi in campo. Questo devo dire che va dato merito a lui che si è fatto trovare pronto al momento giusto. Prima era un giocatore che girava un po' per l'attacco, adesso attacca la porta, questa è la differenza. Ci siamo incontrati ieri con la società, abbiamo parlato un po' di quella che è la programmazione con i due direttori, ovviamente adesso in settimana ci vedremo anche col dottore, adesso dirvi il giorno non lo so, però sicuramente ci sarà anche l'occasione del mapeide, il convegno c'è sabato prossimo e questo potrebbe essere un po' l'occasione per parlare un po' definitivamente di quello che sarà il nostro futuro perché lo stiamo decidendo insieme, ve lo assicuro. Non possiamo dire niente oggi perché sarei disposto in maniera differente, dico solo che oggi come oggi c'è il sassuolo, punto, come contratto, come situazione certa. Io non ho assolutamente firmato, poi altre cose potete dire quello che volete, firmato con nessun'altra squadra, anche perché non sarebbe in questo momento corretto farlo e io sono una persona per bene, seria. Ci sarà sicuramente rientro dal primo minuto, l'unico che giocherà sicuro sarà Magnanelli, il nostro capitano che domani partirà dall'inizio, per il resto la formazione ancora non l'ho deciso. È una questione tra uomini, prima, è quello che lui ha fatto con il sassuolo, quello che lo lega al sassuolo, merita di giocare questa partita in casa, al di là che la condizione magari fisica non è ancora al top, però è in crescita. È ovvio che non l'avrei messo in campo se l'avessi visto proprio indietro, 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 indietro. È indietro però può far bene, giustamente potrebbe avere delle difficoltà iniziali a entrare in partita, ma sono delle idee che alla lunga verrà fuori quelle che sono le sue qualità, emergeranno. Poi al di là dell'aspetto fisico lui ha un qualcosa in più degli altri, che è la testa e potrebbe fare la differenza anche per il rientro domani. Biondini è stato un infortunio differente da Francesco, da Magna, però si è allenato con più continuità e è un po' avanti con la preparazione. Ha dimostrato di star bene. È normale che quando si rientra non sempre si riesce a fare delle prestazioni dietro l'altra, tipo Missiroli che ha fatto quasi 90 minuti dopo un mese e mezzo di stop e quasi tutta la settimana si è allenato a parte, fino a ieri. Valuteremo tra l'allenamento di oggi e domani se poi la possibilità di poterlo schierare. Però sai, mettere tanti giocatori che vengono da lunghi infortuni tutti quanti insieme, già l'ho fatto domenica a San Siro rischiando qualcosina con Missiroli e Biondini, però la vedevo in quel modo lì e ho fatto questa scelta un po' forzata, però ci ha dato ragione. Mi auguro che mi dia ragione anche domani quella di Francesco, ma al di là del risultato Francesco è giusto che giochi questa partita.